Sono Chiara, ho 25 anni, sono di Bologna. Sono Stefania, ho 31 anni, vengo da Torino. Sono Marielena, ho 23 anni e vengo da Rezzo. Secondo turno. Inizia il secondo turno e noi non vediamo l'ora di rimontare in sella. Siete carichissime? Carichissime. Adesso vorrei provare la modalità sport. Sei pronta per la sport allora? Sono pronta, sì. Ripartiamo. Troppo bello! Finalmente ho provato lo sport. La risposta dell'acceleratore era molto più reattivo rispetto al touring. Fantastica! Siamo pronte per continuare a migliorare e migliorare perché veramente con sta moto è un divertimento. È un divertimento ma ogni giro ti rendi conto di quanto stai pian piano migliorando con la moto, stai con confidenza. È davvero fantastica. Rientriamo in pista. Chiara, sto andando veramente come una bomba. Ragazze, quanto è stato divertente. È troppo bello che mi sono mai in sentita così libera con una moto sportiva. Facile da guidare e divertente. È facile. Devo dire che Maria Elena è migliorata tantissimo. Lei che arrivava dall'off-road si trova proprio bene con questa moto. Come segue il corpo! Oggi Chiara è riuscita anche a grassare la saponetta. Ho grassato! Io la invidio tantissimo perché non ci sono ancora riuscita ma ero sicura che lei ce l'avrebbe fatta. Oggi è stato pazzesco! Ci siamo divertite un sacco! Allora ragazze, per me è stata una giornata veramente fantastica. È stato davvero divertente. Poi devo dire che sono stupita dal fatto che non mi fanno minimamente male le braccia. Per me è stata una scoperta assoluta. Stamani avevo un po' di timore perché è la prima volta che provavo il Monster, soprattutto in pista. Avevo un po' di paura di non farcela comunque e di arrivare a fine giornata veramente stanca. Invece sono rimasta veramente sbalordita dalla sua facilità nel guidarla. Ragazzi purtroppo per oggi abbiamo finito. È stato divertentissimo ma ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!